Il centro senologico di Bressanone e Merano, l'assistenza a tumori Alto Adige e Mamazone invitano le donne altoatesine alla prevenzione. Il tumore al seno rimane la causa di morte più frequente nelle donne. In Europa e in tutti i paesi occidentali una donna su nove lo svilupperà nel corso della sua vita. Anche l'Alto Adige è una regione a rischio e per questo si è deciso di lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione, per ricordare l'importanza dell'autopalpazione del seno come sistema di prevenzione ed informare sui rischi molto spesso sottovalutati di un corretto stile di vita. Perché controllare regolarmente lo stato di salute del proprio seno aiuta la scoperta di eventuali anomalie e un seno ben monitorato aiuta a salvarsi la vita, dicono i responsabili del centro senologico di Bressanone assieme a Mamazone e assistenza a tumori in Alto Adige. Presentiamo questo opuscolo informativo con delle istruzioni di come effettuare l'autopalpazione. L'autopalpazione poi ci saranno dei corsi a Merano e a Bressanone e ogni donna, anche donne giovani, a quelle che mi appello, possono frequentare per questi corsi perché proprio l'autopalpazione con tutti gli altri mezzi diagnostici che abbiamo a disposizione sono quelli che poi incidono proprio sulla guarigione, vale a dire che se un tumore va preso in tempo le probabilità di guarigioni sono più elevate. Sentirsi bene è l'opuscolo che fornisce suggerimenti, istruzioni utili e persone da contattare sia nell'ambito della prevenzione che nel caso di diagnosi di un tumore. Grazie all'esperienza, qualsiasi donna sarà in grado di tastare anche i più piccoli noduli e a richiedere aiuto se necessario. Alcol, sovrappeso e fumo sono tra i fattori di rischio più importanti ma non sono gli unici. Anche ereditarietà, alimentazione scorretta o l'età, compresa quella della prima gravidanza, giocano un ruolo importante. Certe donne rifiutano l'autopalpazione affermando di non essere in grado di distinguere tra tessuto normale e malato, affermano gli esperti, ma questo non è vero. Imparare a conoscere il proprio corpo è il modo migliore per prevenire il cancro o la mammella.